Passata una settimana esatta dal voto di fiducia del Senato, la maggioranza che sostiene il governo guidato da Mario Draghi va per la prima volta a sbattere contro le inevitabili divergenze e incomprensioni che caratterizzano partiti così distanti tra loro. Succede tutto nel tardo pomeriggio. Dopo una giornata di strana calma piatta nonostante il ministro Roberto Speranza abbia confermato davanti alle Camere l'intenzione di prorogare le misure anti-Covid fino a dopo Pasqua. Il tema, si sa, è divisivo. Eppure non si registrano né prese di distanza, né distinguo. Matteo Salvini. Per dire. Si limita a dire che Draghi condivide l'idea di un ritorno alla vita e alle attività di categorie chiuse da troppo tempo. Ma si guarda bene dal puntare il dito contro Speranza. D'altra parte. La partita vera si giocherà di lì a qualche ora. Nel consiglio dei ministri che deve mettere la parola fine al tira e molla sui nuovi sottosegretari. Riunione inizialmente convocata per le 17 senza che il tema fosse all'ordine del giorno. Poi posticipata alle 18 con un nuovo ODG e infine sospesa per temporanea impraticabilità del campo dopo circa un'ora e mezza. Veti e controveti, infatti, costringono Draghi a prendere tempo. Per poi finalmente trovare la quadra dopo le 8 di sera. Per la prima volta, insomma, l'ex presidente della BCE si deve confrontare direttamente con le pressioni dei partiti che proprio sui sottosegretari sfogano quelle insofferenze rimaste nel cassetto quando si è giocata la partita dei ministri. Alla quale i leader di maggioranza non sono stati praticamente invitati. Un assaggio di quello che potrebbe essere il percorso dei prossimi mesi. Soprattutto se i numeri della pandemia dovessero imporre di prolungare le misure restrittive o magari aumentarle. È evidente, infatti, che un pezzo della maggioranza finirebbe per andare in fibrillazione e le frizioni di ieri sarebbero ben poca cosa in confronto.